Entra anche tu nella Champions League dell'ignoranza, la strana coppia di Radio Bruno. E lo facciamo con un tenore che gira il mondo portando il bel canto italiano, signore e signori Patrick Salati! Buongiorno a questo giorno che sveglia oggi con me. Buongiorno Patrick, allora come va? Ah va benissimo ragazzi, fine settimana eccezionale, sono stato alerici, è stata fantastica. E poi stamattina ho visto Facebook, ho visto l'annuncio che ha fatto Enrico che festeggia 29 anni di anniversario con la moglie. Anzi io mi domando come la signora Maria Luisa dopo 29 anni riesca ancora a sopportare... Ma come ti permetti? Ma come ti stai dicendo? Io concordo, lui è un uomo di mondo, lascialo parlare. Sospendiamo questo collegamento, ma come è possibile? È un uomo di mondo, ha fatto un militare... Ma padre, ma proprio da te! Io che ti voglio bene, porca miseria! Patrick stamattina, siccome domani non sarai con noi, perché lo facciamo a lunedì, oggi la vigilia dell'anniversario della liberazione, sei particolarmente patriottico oggi, giusto? Sì, questa mattina facciamo l'inno d'Italia, così invitiamo tutti gli ascoltatori a cantare insieme a noi, dai! Dai, va bene, allora, giornata patriottica, Patrick Salati ci canta l'inno di Mameli, prego, mano sul cuore, mi raccomando! Grazie mille! La chiama, che schiava di Roma, in Dio la creò! Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio si cinta alla testa, dove la vittoria le porca la chiama, che schiava di Roma, in Dio la creò! Fratelli d'Italia, l'Italia, 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 l'It ho piaccicato grazie Patrick grazie caro ciao alla prossima